Aumenta il numero dei casi positivi, aumenta il numero dei ricoverati e in particolare il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Il quadro è sintetico ma preoccupante. Non ci troviamo di fronte ai numeri di 12 mesi fa, ma il virus non è sparito. E Padova continua a guidare le province venete per numero di contagiati. 2.435 positivi in questo momento, con un'incidenza del virus che sfiora quota 106 su 100.000 abitanti. E' ancora una volta la fascia d'età tra i 30 e i 65 anni, quella dove il covid colpisce di più. Ma preoccupare la costante crescita dei ricoveri, 54 gli attuali, con 13 persone nella terapia intensiva centrale sui 18 posti disponibili. Il numero 18 si riferisce ai posti letto di terapia intensiva presenti nella rianimazione centrale, così come la chiamiamo noi. Siamo a 13, quindi abbiamo chiaramente delle alte disponibilità, ma è chiaro che va a ridursi quella che è la disponibilità per l'attività, come dire, programmata. Che continuiamo a fare utilizzando le alte terapie intensive, ma chiaramente togliamo spazio per ulteriori interventi. Mascherina, distanziamento, evitare gli assembramenti, le regole sono chiare e ancora una volta l'invito dei responsabili della sanità pubblica è quello di vaccinarsi con terza dose raccomandata sopra i 60 anni. Se è vero che dei 54 pazienti ricoverati sono 25 non vaccinati e 29 vaccinati, è anche vero che i numeri vanno letti in modo corretto. Noi dobbiamo sempre fare un riferimento alla percentuale delle persone che vengono ricoverate in terapia intensiva non vaccinate sul totale dei non vaccinati. E dobbiamo fare il conto della percentuale delle persone ricoverate in terapia intensiva vaccinate sul totale dei vaccinati. Se facciamo il conto in questo modo, la percentuale è molto alta per i non vaccinati ricoverati in terapia intensiva rispetto a quelli vaccinati.